Mirko Geografo, Pugile della Magliana, 27 anni, campione internazionale VBA dei Pesi Medi, titolo che hai conquistato pochissimo tempo fa. Il 15 giugno c'è stato l'incontro, è stata una serata molto emozionante, come hai detto te, prima è il titolo più importante che ho conquistato insieme a altri due titoli italiani, anche quelli, una grande emozione perché comunque sia erano i primi titoli vinti e diciamo sono emozionanti allo stesso livello. Che cosa sacrifichi per la box? Questo è un domandone, i sacrifici sono all'ordine del giorno, ogni cena rimandata, ogni uscita con gli amici mi dà una motivazione in più per vincere poi sul ring. Il tuo prossimo step qual è? Il prossimo step è difendere questo titolo, spero prima possibile, entro settembre-ottobre dovremmo difenderlo e tenerlo a casa, tenerlo a Roma.